Sei convinto di fare il massimo per preservare le informazioni sensibili della tua azienda? Ogni giorno in ufficio eseguiamo attività che possono sembrare banali e prive di rischio per la sicurezza della nostra azienda. Ma non è così. Davide deve stampare il progetto di acquisizione di un'importante società. Si tratta di un documento riservato, da consegnare il prima possibile alla direzione. La multifunzione è impegnata da Laura. Chissà ancora per quanti minuti ne avrà. Davide non ha tempo di aspettare. Manda in stampa il suo progetto e si reca all'altra multifunzione. È sicuro che nessuno potrà raccogliere e leggere il documento. Grazie alle soluzioni di Print Management Conica Minolta la stampa viene rilasciata solo quando l'utente esegue l'accesso con il proprio badge. Davide è riuscito a consegnare il progetto in tempo e il business non si è fermato. Grazie alle nostre soluzioni di Print Management puoi gestire le tue stampe al meglio. Puoi essere sicuro che i tuoi documenti verranno rilasciati solo in presenza dell'utente. Così puoi aumentare la produttività evitando i tempi di attesa multifunzioni, ridurre gli sprechi eliminando le solite stampe abbandonate sul vassoio, incrementare la sicurezza delle informazioni e la compliance GDPR, evitando che i dati sensibili finiscano nelle mani sbagliate.